Torniamo a noi, torniamo alla competizione, ripartiamo di gran carriera, questa volta un gruppo, un gruppo che farà un'esibizione che vi stupirà, accompagnati dalle nostre due veline, ecco a voi gli Schifanos, di solito si fa un applauso, grazie, vi vedo belli pronti. Lascio il palco agli Schifanos. Buonasera, benvenuti a questa strabiliante serata, ho l'onore di presentarvi le fantastiche evoluzioni di un trio che viene da molto lontano, l'emozione nell'accoglierli sul palco è moltissima. Per voi, dalla Bulgaria, gli Schifanos! Uomini che sfidano la gravità, tre, pericolo, sicuramente, tre, patinità, colui che a causa della sua altezza, respirando, piccolarmente rarefatta, ha nell'occhio stupato questo sguardo intelligente, Toper! Applaudiamo! Al centro, alle mie spalle, l'uomo che crede di essere Gulliver, ma in realtà è solo un misero e anche un po' lurido, Lillipuziano! Per voi, Tamer! Applausi Ed infine, alla mia destra, l'uomo che con il suo sguardo magnetico e accattivante, crede di poter conquistare il pubblico femminile! Lasciamoglielo credere! Vi presento Tafat! Ed ecco a voi la prima prudezza! Amide Disumana! Applaudiamo! Applaudiamo! No, im semi-erotico, im biplanot! Grazie. Oh, peccato d'entrereo. E finalmente, ringraziando il cielo, l'ultimo esercizio di questi tre PIRL artisti. Il tope! Buongiorno del Lughetto! Due arti di quale! Incapaci! L'emozioniamo! Buongiorno del Lughetto! Buongiorno del Lughetto! Buongiorno del Lughetto! Grazie a tutti! Buongiorno del Lughetto! Buongiorno del Lughetto! Buongiorno del Lughetto! Buongiorno del Lughetto! Buongiorno del Lughetto!